Una vetrina importante dove al di là dell'esposizione delle industrie ci sarà anche attività di rendicontazione di quello che sta accadendo e più prespezioni future per quello che riguarda la rigenerazione urbana e la sostenibilità. Quest'anno nel trend dell'edizione dello scorso anno il salone virerà sempre di più verso gli aspetti oltre che della ricostruzione e anche della rigenerazione urbana che peraltro tutti gli adeguamenti antisismici è una branca della rigenerazione quindi nel tempo il salone gradatamente lascerà la ricostruzione e tenderà a rimanere in permanenza sul discorso della rigenerazione e sulla sostenibilità. Sì, un laboratorio perché con Officina L'Aquila c'è una forza interazione tra il mondo del lavoro e il mondo della produzione e anche gli ordini istituti preposti al controllo e alla progettazione della ricostruzione. Già dallo scorso anno abbiamo incominciato a lavorare in maniera forte per costruire attorno al salone un nucleo di soggetti che sono tutti portatori di interesse all'interno del comitato dei promotori che potesse concertare le attività strategiche del salone e mi riferisco quando parlo del comitato promotore a tutte le istituzioni che operano sulla ricostruzione quindi dall'USRA, l'USRC, i beni culturali, agli ordini professionali alle associazioni di categoria. Tutti questi assieme decidono qual è la strategia culturale del salone e attorno a questa costruiscono il progetto di salone per l'anno successivo. Quest'anno stiamo lavorando sulla rigenerazione edilizia e doveva essere oggi con noi Mario Cucinella che coordinerà questo progetto sul tema della rigenerazione edilizia con l'obiettivo di costruire un decalogo sulla rigenerazione edilizia in Abruzzo, non solo all'Aquila ovviamente e ha poi rilasciato un'intervista proprio ieri che troverete in cartella stampa perché questo sarà il nucleo, lavorare sui temi della sostenibilità, della mobilità sostenibile e della rigenerazione edilizia possono portare a partire dall'Aquila, della ricostruzione all'Aquila a dare all'Abruzzo prima di tutto un nuovo mercato ma poi una specializzazione in questo settore che può diventare nazionale ed internazionale. Ma io credo che sia un'opportunità generale, proprio nazionale, perché oggi il salone, la quinta edizione naturalmente, è un salone di riferimento nazionale e è un fiore all'occhiello per noi. Oggi se pensiamo che sia soltanto uno scambio di idee o una presentazione di quello che potrebbero essere le tecniche e i materiali da usare, no, questo è proprio un punto d'incontro, di confronto con l'istituzione, con il governo e con quant'altro e per mettere su tavolo anche tutte le esigenze problematiche che vertono e che noi conosciamo e che si sono verificate e si verificano. Ma proprio per questo ci auguriamo che al 3-4 di maggio, quando inizia questo salone, che la macchina inizia a funzionare perché mi sembra che oggi la governance sia insediata. E' normale che necessitano un paio di mesi per metterla a punto. E penso e mi auguro che in quel giorno ci diano anche delle risposte un po' più concrete. Quali sono le problematiche? Problematiche del personale che manca al Comune, che si sono incestati tutti i stati di avanzamento, problematiche del MIBAC che oggi hanno fatto le nomine, ma ora che si avvia la macchina altri 2-3 mesi, problematiche oggi che io ringrazio, Marchesi, rappresentante della struttura tecnica di missione, che si è insediato gli ultimi giorni, rappresentante della USRA che praticamente ha sostituito Aglielle e si è insediato da 15 giorni e così via. Ci auguriamo veramente che questa macchina cominci a funzionare, però la risposta ce la deve dare il governo di questa continuità di tutti i finanziamenti, perché alla carta sì parliamo di milioni e di qualche miliardo, ma realmente di cassa quando arriva l'Aquila, tutto qua.